amici di unibet eccoci qua a presentare milan inter il derby la stracittadina grande grande spettacolo tutto esaurito quindi è una partita particolare perché sulla carta al milan secondo me in questo momento sta facendo molto bene favorito però nel derby qualsiasi risultato è aperto è la prima partita di pioli ci sono delle curiosità che sono stati in giro per il mondo tantissimi giocatori sia di inter di milan con le proprie nazionali e poi a livello tattico mi aspetto un pioli da parte interista che va 4 3 3 e da parte di montella anche lui classico 4 3 3 quindi una partita a specchio e duelli personali saranno quelli che faranno la differenza secondo me in questo in questa partita a livello a livello spettacolare mi aspetto mi aspetto veramente una gara aperta aperta e rispetto al mio amico diego abbatt antuono lui vedono una una partita da pareggio io invece vedo vedo la vittoria dell'inter con per 2 a 1 due gol di icardi anche perché è un'altra curiosità che icardi non ha mai fatto gol in un derby contro il milan quindi sono sempre avaristo scusate se insisto scusate se insiste